Nella vostra lista sostiene Pino Strano la Presidenza della Regione. Dunque, noi attraverso gli strumenti della cambiare sociale e della democrazia diretta abbiamo intenzione di riappropriarci della sovranità monetaria, politica e territoriale che ci è stata tolta e sottratta nel corso degli ultimi 40-50 anni gradualmente senza che nessuno se ne accorgesse o quantomeno che la parte principale dei rappresentanti dei partiti dicesse alcunché o facesse alcunché per cercare di attenuare o impedire questa devoluzione all'estero di poteri cittadini.